La pugilistica lucchese compie 100 anni, la gloriosa società fondata nel 1921, punto di riferimento della nobile arte sul territorio della provincia, arriva a spegnere ben 100 candeline. Un traguardo ragguardevole che verrà celebrato durante tutto l'anno con l'organizzazione di una serie di eventi, a partire proprio da questo weekend, sabato e domenica, alla palestra dell'Isi Pertini di Lucchia. Si parte sabato pomeriggio con Noemi Garofano pronta a giocarsi la rivincita contro Sara Pincin della New Berica Box Vicenza che l'eliminò nei quarti di finale dei discorsi campionati italiani junior 60 kg. Sarà anche l'occasione di rivedere sul quadrato Miria Rossetti-Busa, la reatasi campionessa italiana 2020 nella categoria junior 46 kg, che incontrerà Carola Fuliano della palestra Ilio Baroni di Torino, anch'essa semifinalista agli stessi campionati. Lorenzo Frugoli rientrerà sul ring dopo la mancata partecipazione ai campionati italiani youth 75 kg 2020 a causa di un infortunio. Ad incrociare i guanti con lui sarà Matteo Forconi dell'Accademia Pugilistica di Fermo, nelle Marche già campione italiano 2020 della categoria junior 75 kg. Concluderà in bellezza il match clou della serata di sabato, protagonista Marvin De Mollari, professionista a categoria superleggeri 63,5 kg, punta di diamante della pugilistica lucchese, che sarà opposto ad Antonio Casali della polisportiva Circolo Dozza di Bologna. Test match per Marvin sulla distanza delle sei riprese. La manifestazione proseguirà poi domenica dalle 16 con un programma ancora più ricco. Matteo Mencaroni incrocerà i guanti con Rachmani Seifedine della box de Tori di Bologna. Ashraf Lecala, al debutto nella categoria youth 69 kg, si cimenterà per la prima volta sulle tre riprese da tre minuti contro Diego Pagnini della pugilistica pratese. Ed ancora Andrea Bardazzi affronterà Alessio Bonissoni, buon nome a box Bologna, in un match che si profila equilibrato, così come quello tra Matteo Di Santoro e Teodor Rotaru, sempre della bon nome a box Bologna. Infine Alessandro Gatti, dopo la sfortunata parentesi ai campionati italiani di Avellino, chiuderà la ricca due giorni ripartendo da Hameter Milaz della Fight Gym Grosseto.